salve salve youtube youtube faccio questo video per dire che purtroppo non non penso che farò video perché diciamo che c'è poco da dire ormai quello che c'era da dire è stato detto però questo non vuol dire che a me non mi piace così parlare di queste cose però se volete continuare perché io sono molto attivo adesso su telegram se volete potete entrare su telegram se voi non conoscete telegram che anche io l'ho scoperto così recentemente ve lo consiglio perché insomma la festa continua su telegram ragazzi ve lo garantisco a cosa è dovuta questa assenza principalmente lo scopo mio per fare video è che diciamo io faccio fatica a conoscere persone dal vivo perché persone al mio livello purtroppo sono poche e quindi con tanta fatica sono riuscito a circondarmi di poche persone che considero che mi possono sostenere spiritualmente quanto bastano per essere sani mentalmente diciamo che quindi ho usato youtube per questo senso qua non non è la mia intenzione vendere niente la mia intenzione era semplicemente avere un gruppo di amici visto che mi trovo totalmente fuori dal mondo con cui passare un po questo che ci rimane da è successo qualcosa di enorme nella mia vita però diciamo così che non mi sento così di parlarne su youtube perché non c'è non abbiamo molta confidenza invece ne parlo un po su wow sole finalmente sole cuore amore ragazzi questo mi carica da me il sole il cuore e l'amore allora sì questa esposizione è un po bruciata ma non ce ne frega niente perché l'importante è il contenuto quindi venite su telegram se volete perché io sono sempre su telegram e youtube veramente non c'ha senso ormai adesso metto il link in descrizione e poi insomma la vita continua su telegram finché non ci tolgono anche quello ok io e il sole in faccia che mi sta facendo sparire vi saluto ciao ciao